Signore, io credo che tu sei il figlio di Dio, il figlio generato dal Padre. Io credo che tu sei la via, la verità e la vita. Sono certo che attraverso di te posso arrivare alla casa del Padre, posso trovare la vita. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetti 1-6. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Non sia turbato il vostro cuore, non sia sconvolto il vostro cuore. In realtà per i discepoli non è un bel momento quando Gesù dice queste parole. Sono a cena con Gesù per l'ultima volta. Tante cose sono successe in quella cena. Alcune cose significative, come quando Gesù si è messo a lavare i loro i piedi, ma altre cose li hanno sconvolte in maniera profondissima. Quando soprattutto Gesù ha cominciato ad annunciare il tradimento prima di Giuda. Poi Pietro si è sentito dire dire direttamente da Gesù che egli avrebbe tradito il maestro prima del canto del gallo. Ecco questa è la situazione grave di sofferenza in cui si trovano i discepoli. In questo momento Gesù dona speranza al cuore del discepolo che è nel buio, donando fiducia come dà speranza anche a ciascuno di noi quando passa attraverso momenti di sofferenza, di desolazione. Come avviene la consolazione? Per Gesù la strada della consolazione è la fede, è credere nel Padre, è credere in Lui. E la fede non è un sentimento vago, un atto della mente che dice ci sarà pur qualcosa, è leggere i fatti alla luce di Dio, del Dio creatore, del Dio che è Padre. Ed è proprio nella fede che l'esperienza tremenda della morte che Gesù sta per affrontare e che ha gettato nella tristezza ai discepoli diventa un viaggio. Non è più un'esperienza tremenda, ma è un viaggio verso la casa del Padre. Se Gesù affronta il dolore, così dice, il dolore della morte, lo affronta per preparare un posto ai discepoli, a noi, nella casa del Padre. Il figlio si è fatto uomo, ha affrontato la morte per aprire la speranza ad ogni uomo. La fede diventa fonte di consolazione perché svela il senso della morte di Gesù, lo descrive come un viaggio. Svela anche il punto di arrivo di quel viaggio e quindi anche della nostra vita, delle nostre fatiche. Gesù va in croce e attraverso quella strada arriva nella casa del Padre. Così ci apre la possibilità di arrivare anche a noi, lì, nella casa del Padre. Se affronta la morte è per aprirci una strada, per tracciare un cammino. Così non camminiamo a vuoto, senza sapere dove andare. Gesù usa un'immagine qui che era già apparsa nella scrittura, al tempo dell'Esodo, quando Dio aveva detto a Mosè non spaventarti del cammino che dovrai affrontare. Per Mosè era duro pensare di affrontare il deserto, pensava di non dover trovare la strada come avrebbe trovato la strada. Così il popolo avrebbe vagato senza sapere dove andare, sarebbe morto nel deserto. Dio aveva detto io manderò un angelo avanti a te, ti preparerà un posto dove riposare e poi verrà davanti a te e ti mostrerà la via. Così non ti perderai nel deserto. Non sapere dove andare, non conoscere la via, questo è ciò che provoca il turbamento. Non sai dove vai, non sai che cosa ti aspetta, non sai che compimento avrà il tuo sforzo. A Tommaso che insiste, ma noi non conosciamo la via, non riusciamo a capire i fatti che ci accadono, non solo strada verso un compimento. Noi stessi di fronte al mistero della morte diciamo nessuno è tornato indietro dal cimitero a raccontarci che cosa c'è di là, come facciamo a conoscere la strada. Oggi siamo invitati a credere che Gesù è ritornato, è ritornato alla vita e in quanto ritornato è diventato strada, è diventato via. Credere in lui dunque non è solo un atto della mente, ma vuol dire riconoscere che il figlio è andato nella casa del padre. Per lui la morte non è stata la vittoria del diavolo, egli è ritornato in vita, proprio per questo egli è la verità, perché ci svella quello che noi non vediamo, ma che è vero. Se seguiamo lui, se mettiamo i piedi sulle sue orme, se osserviamo le sue parole, siamo certi di non sbagliare la strada, siamo certi che possiamo giungere alla meta e la meta è la vita piena, vita che dura, perché ci viene svelato che la meta del nostro cammino è un posto nella casa del padre. Il fine del nostro cammino è vivere insieme con Gesù e con Gesù insieme con il padre, questo è possibile grazie a Gesù che ci mostra dove andare. Con la certezza della meta allora anche il cammino si trasforma, non è più avvolto dall'incertezza, non è più cupo, non sei più colpito dalla domanda dove andrò, qual è la mia strada. Se segui Gesù sei certo di non sbagliare la strada. Non dobbiamo essere turbati, siamo in buone mani, fidiamoci della guida, come quando si va in un paese straniero. Se hai una buona guida non sei preoccupato, ti affidi alle sue parole, la segui, non ti preoccupi, sei certo che non ti perderai. Abbiamo una buona guida. grazie Gesù. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Voglio ricordare ai fedeli della mia parrocchia che domani, festa di San Liberale, alle ore 18 celebrerà la messa Monsignor Dianin, Vescovo di Chioggia e alle ore 16 sempre Monsignor Dianin, impatronato, farà un incontro sul tema della famiglia e di come il Vangelo è una buona famiglia per ogni famiglia, anche per le famiglie che sono toccate dalla divisione, da momenti di difficoltà. Ecco, il Vangelo è Vangelo per tutti, sono tutti invitati a vivere questi momenti così importanti. Buona giornata.